Oggi vi propongo una super analisi di Freedom Holding Corporation, questa è la società che detiene Freedom24, il broker di cui vi ho parlato diverse volte che permette di investire in IPO e permette di investire in molti mercati. Ad esempio è uno dei pochi broker che permette di esporsi ad azioni russe e kazake. In questo periodo qualche azione russa potrebbe anche essere interessante per proteggersi della situazione tra Ucraina e Russia, ma di questo ne parleremo più avanti. Benvenuti su Investire con Gus, inizio dicendovi che non sarà una super marchetta questo video ma sarà una serie analisi dell'azione Freedom Holding perché oltre ad essere un broker molto interessante, Freedom è anche una società con un potenziale veramente enorme. La crescita di questa società negli ultimi anni è stata veramente esponenziale, perciò in questo video cercheremo di capire se possa essere magari un'azione potenzialmente interessante che possa avere un futuro pazzesco. Ovviamente come al solito il contenuto di questo video non sarà assolutamente un consiglio di investimento o un'analisi sufficiente a decidere se investire nella società oppure no. Come sempre dovete fare le vostre analisi, non dovete mai, e dico mai, assolutamente investire soltanto perché lo faccio io o perché vi piace una mia analisi. Dovete fare le vostre analisi perché la mia analisi, come quella di chiunque altro, potrebbe essere sbagliata. Anche Warren Buffett sbaglia. E quando sbagliate dovete farlo per colpa vostra, non per colpa di qualcuno che seguite. Perché quando investite copiando qualcuno la vostra convinzione non sarà reale. Appena questa azione in cui avete investito copiando qualcuno inizia a scendere, venderete, vi spaventerete, perciò farete degli errori assurdi, perciò non copiate nessuno, né il più esperto né il più principiante. Nessuno! Detto questo possiamo finalmente iniziare ad analizzare Freedom Holding. Innanzitutto vi dico subito che questo è un broker che si sta espandendo molto velocemente in Europa e negli Stati Uniti. Nasce come broker russo e kazako. Se volete approfondire un pochino i servizi che offre Freedom24 in Italia, andate a vedere questo video in cui ho analizzato il broker nel minimo dettaglio e ho spiegato cosa offre al pubblico italiano. La cosa più interessante di questo broker è che permette agli investitori retail, quindi ai piccoli investitori come me e te che stai guardando questo video, di investire in IPO prima che arrivino sul mercato. Di investirci quindi come fanno gli investitori istituzionali. Questo è una parte del muat della società. Un'altra parte del muat della società è il fatto che offre la possibilità di investire in azioni russe e kazakia. Qualcuno potrebbe non interessare assolutamente, però per qualcuno può essere un punto a favore. Inoltre questo broker permette di investire veramente in tantissimi mercati. Mercati europei, mercati americani. Permettono di investire anche in altri mercati particolari come Uzbekistan, Ucraina e Turchia. Si può anche investire in Asia, perciò è probabilmente uno dei broker che offre la più grossa quantità di azioni. Questa è una cosa veramente ottima. Adesso vi mostro un contenuto che ho preso direttamente dai seg filings di Freedom Holding, che è una società quotata sul Nasdaq. Oltre a fare servizio di brokeraggio per investitori retail, offrono anche servizi bancari, servizi di investimento, servizi di consulenza finanziaria e fanno anche operazioni di trading, operazioni di investimento. Operano quindi anche come fanno le banche di investimento, hanno un team di analisti che fa ricerche e propone idee di investimento in cui investono anche loro. Oltre a offrire servizi di brokeraggio a investitori retail, offrono anche servizi di brokeraggio a grandi società di investimento. Altri modi in cui guadagna Freedom Holding sono gli interessi attivi ovviamente, perché fanno attività di prestito, ad esempio si può utilizzare il margine con Freedom24 e offrono anche servizi di prestito come mutui ipotecari. Il core business, il core dei ricavi, arriva ovviamente dalle commissioni, delle commissioni per i servizi di brokeraggio che offrono a investitori retail e investitori istituzionali. Di recente hanno intrapreso delle nuove attività, hanno lanciato dei mutui ipotecari digitali per i loro clienti kazaki e hanno lanciato anche una carta di investimento per la quale si possono effettuare acquisti senza alcuna commissione. Quindi Freedom Holding non offre soltanto servizi di brokeraggio, ma offre anche servizi bancari a tutti gli effetti. Tra il 2020 e il 2021 la società ha visto i suoi clienti crescere in una maniera veramente esponenziale. A marzo 2020 gli account erano 140 mila, invece a dicembre 2021 erano di 370 mila, più che raddoppiati. E gli asset totali sono aumentati dell'82%, fino a raggiungere circa 2,7 miliardi al 31 dicembre 2021. Una cosa che ha spinto molto la crescita di Freedom Holding è stata la crescita degli utenti russi. Infatti secondo la borsa di Mosca, il numero di clienti retail che investono nel Moex, quindi la borsa russa, sono cresciuti da 11 milioni a marzo 2021 a 16 milioni a dicembre 2021. Una piccola nota interessante, dal 2014 in Russia è stata introdotta un'esenzione al pagamento del capital gain su investimenti detenuti per più di tre anni. Speriamo arrivi una regolamentazione del genere anche in Italia. Anche gli investitori attivi in Kazakistan sono cresciuti in maniera esponenziale da 150 mila a marzo 2021 a 218 mila a dicembre 2021. Ovviamente, come sappiamo bene un po' tutti, anche gli investitori attivi negli Stati Uniti e in Europa sono cresciuti in maniera veramente esponenziale nel periodo dopo la pandemia. Una cosa che mi piace moltissimo di Freedom Holding, che sto vedendo da insider visto che ho una partnership con loro, è che sono molto attivi sui social, stanno intraprendendo una strategia di marketing che secondo me potrebbe essere estremamente efficace, cioè lavorare con content creators, quindi con youtubers, instagramers che parlano di finanza, facendosi così conoscere dal pubblico di vari paesi. Questa secondo me è una strategia veramente efficace che potrebbe portare una crescita degli utenti attivi, degli account, veramente esponenziale nei prossimi anni. Penso che Freedom Holding abbia grosse possibilità di espandersi in Europa e probabilmente anche negli Stati Uniti. Non conosco alla perfezione il mercato di brokers degli Stati Uniti ovviamente, però quello europeo secondo me potrebbe avere un grossissimo potenziale per Freedom24, Freedom Holding. È una cosa che reputo estremamente intelligente da parte loro e che sto vivendo in prima persona e che oltre a fare queste partnership con vari creators, chiedono anche ai creators, che sono tendenzialmente investitori, di dargli un feedback sulla loro piattaforma. Ad esempio io ho segnalato al mio contatto in Freedom Holding che c'erano alcuni errori di traduzione sulla loro piattaforma e hanno proceduto a risolverli. Inoltre se vi ricordate all'inizio io non riuscivo a registrarmi in Freedom24 perché non avevo il passaporto, quindi hanno risolto anche questo e hanno permesso di registrarsi anche a chi ha soltanto la carta d'identità cartacea come me. Quindi non si stanno muovendo da stupida multinazionale che non ascolta i suoi clienti ma stanno ascoltando le necessità e i problemi che riscontrano i loro clienti in modo da crescere e migliorare la piattaforma per renderla sempre migliore per i loro clienti. Piccola nota, ho recentemente scaricato le app di Freedom24 ed è veramente una figata, semplice da utilizzare, molto intuitiva e molto carina, veramente bellissima. La piattaforma web andrebbe migliorata però l'app è veramente al top. Quindi a mio avviso se continueranno a muoversi in questa maniera molto furba potrebbero espandere la loro base di clienti, espandere i loro account in Europa in maniera veramente esponenziale nei prossimi anni. E se volete contribuire a questa espansione potete utilizzare il link affiliato che trovate in descrizione per aprire un account con Freedom24. Adesso però diamo finalmente un'occhiata al bilancio. Come vedete i ricavi dell'ultimo trimestre hanno avuto una crescita veramente esponenziale, più 45% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nei primi nove mesi del 2021 invece la crescita è stata ancora più potente, più o meno del 100%, oltre il 100%. Quindi la crescita dei ricavi è veramente impressionante, mostruosa. La crescita dell'utile netto dei primi nove mesi del 2021 è stata ancora più forte, da 90 milioni nell'anno scorso a 307 milioni quest'anno. Invece nell'ultimo trimestre la crescita è stata inferiore rispetto alla crescita dei ricavi. Questo perché c'è stato un forte aumento nella crescita delle spese operative. Quindi la prima cosa che notiamo è che Freedom Holding tendenzialmente è una macchina da soldi. Hanno un utile netto veramente bestiale e sono già positivi con forza, nonostante siano in una fase di espansione del business. Questo è veramente ottimo perché è una growth, un'azione super growth con un utile netto positivo, cosa non facile da trovare. Anche lo stato patrimoniale è ineccepibile, hanno veramente tanto cash a disposizione o investimenti facilmente disinvestibili e il debito è totalmente sotto controllo. Quindi abbiamo una società con piani di espansione in Europa e negli Stati Uniti che secondo me avranno una discreta efficacia, perché come vi dicevo mi piace molto la loro strategia di marketing, che sta già ottenendo degli ottimi risultati e una crescita esponenziale, essendo positiva e con uno stato patrimoniale veramente ben messo. Un altro fattore che rende la crescita di Freedom così importante è il fatto che fanno molte acquisizioni. Sono una società che è in grado di fare delle buone acquisizioni. Negli ultimi 4 anni hanno fatto 5 acquisizioni, quindi potremmo aspettarci che questo trend continui in futuro, visto che la società ha anche un utile netto positivo. Guardare il cash flow in questa società potrebbe essere un po' tricky, perché viene fortemente alterato dagli investimenti che la società fa, dalle attività di trading, perché come vedete nei primi 9 mesi del 2021 il cash flow è stato negativamente impattato dal trading e dai receivables, perciò tendenzialmente mi concentrerei più sul conto economico che sul cash flow. Per la fine dell'anno fiscale 2022 gli analisti si aspettano EPS gap di 6,29 dollari. Questo dovrebbe a Freedom Holding un price earning intorno a 10, però per il 2023 si aspettano un calo dell'utile e si aspettano anche un calo dei ricavi del 14%. Penso che gli analisti siano negativi per la crescita nel 2023 di Freedom Holding, perché la crescita nel 2022 è stata veramente esponenziale. Quindi si aspettano un rilassamento dei risultati e potrebbe anche essere, soprattutto vedendo come stanno andando i mercati, il mercato azionario principalmente, in quest'anno. Una continuazione di questo trend negativo dei mercati potrebbe effettivamente avere un impatto negativo su Freedom Holding. Inoltre un altro fattore di rischio potenziale è la situazione tra Russia e Ucraina, perché essendo Freedom Holding un broker molto esposto al mercato russo, questa situazione di dubbio, questa situazione imprevedibile e pericolosa potrebbe avere un impatto negativo sul trading, perché magari molte persone potrebbero decidere di non investire o potrebbero smettere di investire vista la situazione di incertezza. Però se invece la situazione dovesse rilassarsi, dovesse tornare alla normalità, questo potrebbe essere un fattore estremamente positivo, perché pensiamo un attimino, probabilmente molta gente sta disinvestendo, vista la situazione tra Russia e Ucraina, quindi generano commissioni con la vendita. Poi se la situazione dovesse risolversi e quindi il tutto finisse in un nulla di fatto, queste persone che hanno disinvestito vorrebbero ritornare nei mercati e investirebbero generando ulteriori commissioni. Quindi va un po' valutata questa situazione. Tra l'altro una cosa molto interessante secondo me è che ultimamente sul mercato Freedom Holding è sostanzialmente ferma, non sta assumendo scossoni della situazione in Russia-Ucraina, quindi forse il mercato sta interpretando la situazione come vi ho appena detto. Infatti mi ha molto colpito il fatto che l'azione sia rimasta ferma nonostante il mercato continui a scendere, stia performando abbastanza meglio nelle ultime settimane rispetto al mercato, quindi chissà, magari la situazione sta venendo interpretata in maniera positiva dal mercato azionario. Purtroppo nemmeno su Ticker Pro ci sono le stime per gli anni oltre il 2023, quindi è un po' difficile prevedere come sarà il futuro di Freedom24, però a mio avviso se dovessero effettivamente riuscire ad espandersi in Europa e se la loro strategia di marketing utilizzando i social avrà successo, potrebbero crescere veramente in maniera esponenziale. La crescita potrebbe essere veramente molto forte. Perciò credo che al momento valutare Freedom Holding sia molto ma molto difficile, però il futuro di questa società appare piuttosto luminoso. Altra cosa interessante che mi è stata detta dal mio contatto in Freedom, quando gli ho consigliato di offrire ai clienti italiani un report fiscale, mi ha detto che ci stanno già pensando, lo stanno già preparando. Questo potrebbe dare un bel boost alla loro attività sul mercato italiano, perché molti clienti italiani vogliono il report fiscale. Se dovessero effettivamente offrirlo ai clienti sarebbe fantastico, potrebbe dare un bel boost al loro business in Italia. Quindi a mio avviso per adesso stanno facendo le mosse giuste. Pian pianino lavoreranno sul miglioramento della piattaforma, il miglioramento dell'app e magari lavoreranno anche sulla diminuzione delle commissioni, quindi potrebbero riuscire ad espandersi molto ma molto bene in Europa. Adesso voglio mostrarvi un attimo la valutazione attuale di Freedom rispetto ai suoi principali competitors europei. Questa è la valutazione di Freedom, un PE al 2023 di 14,6. Poi abbiamo la nostra Fineco con un PE al 2023 di 23,9, quindi parecchio più alto rispetto a quello di Freedom. Poi abbiamo Interactive Brokers con un PE di 16,9, quindi leggermente più alto rispetto a Freedom. Infine abbiamo Flatex de Giro che è l'unica ad avere un PE forward inferiore rispetto a Freedom. Quindi a mio avviso Fineco e Interactive Brokers hanno price earnings più alti perché sono due società molto dominanti nei loro mercati, quindi diciamo che ricevono un piccolo premium dal mercato, però la loro crescita futura tendenzialmente sarà inferiore rispetto a quella di Freedom. Invece De Giro sembra avere una valutazione veramente molto ma molto bassa perché Flatex de Giro è una società che continua a crescere e nonostante questo ha un PE veramente molto basso. E poi abbiamo Freedom Holding che probabilmente in futuro potrebbe essere quella tra queste ad avere la crescita maggiore con un PE veramente abbastanza basso. Però non credo che l'azione possa avere chissà che esplua affinché non si chiarirà un pochino quale potrebbe essere la crescita nei prossimi anni, negli anni oltre il 2023 perché se il mercato si aspetta una decrescita degli EPS e dei ricavi nel 2023 tendenzialmente non credo che l'azione possa salire chissà quanto sul breve e medio termine. Però chissà se il management se non uscisse con una guida a cinque anni super alta l'azione potrebbe schizzare al rialzo in maniera veramente molto forte. Personalmente al momento non ci ho ancora investito perché come vi dicevo mi trovo in difficoltà a valutarla e come sapete se mi seguite da un po' non adoro valutare società bancarie perché non sono anche in grado di farlo. Freedom è sì una società di brokeraggio però fanno anche attività bancaria che reputo molto complicato da valutare. Però è una società che continuerò a monitorare perché la crescita futura potrebbe essere veramente esponenziale e con essa potrebbe esserci un'esponenziale crescita dell'azione. Inoltre avere azioni Freedom Holding nel portafoglio di Freedom24 dovrebbe avere un piccolo effetto positivo sul rating per le IPO perché più alto il tuo rating in Freedom24 più azioni delle IPO puoi ricevere. E sembra che investire in Freedom Holding dia un piccolo boost positivo alto rating ma non ho capito ancora di quanto sinceramente. Perciò stavo pensando di inserirla nel portafoglio di Freedom24 ma non l'ho ancora fatto proprio perché mi trovo un pochino in difficoltà a valutarla però sono piuttosto ottimista per il suo futuro. Ma vorrei sentire magari qualcosa dal management e vedere come si evolve la situazione. Per adesso sono abbastanza paziente visto che i mercati sono quei che sono ultimamente non sono proprio un gran che. Vi ricordo che se vorrete aprire un conto con Freedom24 potrete utilizzare il mio link affiliato in descrizione. Per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa pensate voi di Freedom Holding. Scrivete un commento. Se magari l'avete valutata fatemi sapere cosa avete concluso. Quali sono le vostre conclusioni. E ovviamente come sempre ricordatevi di di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di condividere il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video buoni investimenti a tutti. Ciao!